ciao ragazzi ciao ragazze top benvenuti in un nuovo blog allora sono molto contenta anzi molto molto contenta perché è arrivato finalmente la rosino e l'ombrellaio no sono arrivate finalmente le ante dell'armadio io sono molto felice ragazzi che non potevo più vedere quel mobile così con i vestiti perché non è la cabina armadio non è la cabina armadio ma fa parte di un mobile di una camera quindi deve venire chiuso allora poi è arrivata anche un'altra cosa che abbiamo ordinato aveva fatto un ordine grosso e arriva in due giorni diversi oggi è arrivata una prima tranche vediamo oggi è arrivata la prima tranche di cose anche un sacchettone di Ikea perché ho arrivato delle cose sfiziose quelle ve le faccio vedere in questo blog poi non so se la buonità di quest'uomo montaleante oggi lo fa domani 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 e domani vabbè comunque vi faccio delle cose faccio l'all Ikea e sono veramente felicissima sì adesso stiamo andando praticamente se il e così va bene poi quando sarà che dobbiamo andare nei negozi così ma questo è primo febbraio faremo il tampone e così siamo tutti a posto tutti controllati e si rispettano le regole che noi abbiamo sempre rispettate comunque ragazzi vi volevo dire una cosa ieri ho pubblicato la ricetta del salame al cioccolato che dite pubblichi i video vecchi no praticamente tante persone i video vecchi non li vanno a vedere e quindi mi chiedono sempre è fatto la ricetta di questo è fatto la ricetta di quell'altro allora ogni tanto li ripropongo tra l'altro ieri ho fatto anche un'altra cosa ho messo in alto le schede con tutta la playlist delle video ricette passate così potete vederla e appunto la planetaria rosa oltre che essere belle e pulciosa serve per fare video ricette quindi le prossime video ricette che vedrete saranno assolutamente nuovissime perché appunto l'ho preso apposta per farvi le video ricette che siano dolci salate insomma dipende non è che in tutte le video ricette cosa cosa dimmi io devo usare una planetaria e vi farò un nuovo spattuto ma smettila comunque ragazzi vedete video ricette nuove e niente dai ci vediamo direttamente con le consiglie di Ikea o se trovo qualcosa di interessante a farvi vedere ve la faccio vedere però ragazzi era una vita che non venivo da cvg e adesso che siamo stati al fior d'aliso poi siamo andati ad astago per ritirare una cosa che avevamo ordinato un regalo che mi ha fatto il mio marito poi vi farò vedere ho detto ma si andiamo qua perché è da un po' che non lo vedo quindi e questo sembra veramente enorme e niente sono curioso di vedere com'è qua vediamo ragazzi grazie grazie ragazzi ci siamo ecco qui le ante abbiamo preso di questo grigio qua no scherzo ovviamente questo è il retro ovviamente questo è il retro ragazzi sta montando le cerniere mio marito poi adesso la mette e poi vedrete no amore l'ha in fondo l'hai lasciata dove è nel sacchetto ah è qua guarda è qua è qui amore ecco l'ho trovata e niente vedrete fra un po' vedrete fra un po' di vlog facendo e ci vediamo è questo qua il colore vlog facendo no amore perché fai spoiler allora ragazzi sì qui ancora natale come potete notare proprio molto felice tutto ciò la stazione anche luci dell'albero e non mi sono dimenticata di farvi vedere il contenuto del sacchetto Ikea adesso vi faccio vedere il contenuto del sacchetto che sono le cose che ho preso insieme a queste altre e poi e poi abbiamo un'altra spedizione che arriverà il 3 o 5 febbraio che sarà ancora un altro mobile e tutte le altre cose le sono arrivate e a parte due cose però vi spiegherò vlog facendo appunto adesso andiamo di là che vi faccio vedere il contenuto della busta di Ikea calcolate che c'erano anche le cerniere quelle non ve le sto a far vedere perché quelle servono per le ante quindi i pacchi delle cerniere non ve li faccio vedere appunto andiamo a vedere che cosa abbiamo comprato di Ikea allora ragazzi qui ci sono un po' di cose ma vi faccio vedere nel sacchetto Ikea proviamo allora questo cuscino qua molto bello grande come quelli che io piccoli che adesso però subito il lavatrice è proprio lo stesso rosa mi piace molto il nome di questo cuscino è questo quindi se vi interessa questo e poi abbiamo i sacchetti istad quelli grandi i sacchetti istad quelli medi questi qua che sono nuovi ma ho visto che sono aperti e questi li faccio il reso perché non mi sta bene che mi consegnino una cosa aperta li ho visti solo adesso vedete questi qua passo chiama Ikea e glielo faccio vedere perché questa cosa io non l'accetto assolutamente gli altri sono chiuse sì qua potete vedere c'è la dove si vede comunque questa qui è la vetrina di Itholf quella che mi era esplosa in testa e questa è la vetrina ha uno e due scatole questo assolutamente faccio il reso perché io non accetto una cosa del genere già aperto assolutamente no e niente quindi questi io li rendo quando arrivano con l'altra consegna e mi devo portare un altro di questi perché comunque vi approfitto per far vedere che è il nuovo sacchetto che va a sostituire quello azzurro quello da 2,5 litri comunque c'è anche no aperto no assolutamente bene ragazzi ora siamo arrivati al momento focale importante di farvi vedere le ante allora piccola premessa no ve lo dico mentre ve lo faccio vedere nulla unica premessa mio marito è bravissimo a fare qualsiasi cosa e sono molto grata mio marito per avermi per aver montato appunto le ante molto molto carino niente 3 2 1 ma cosa c'entra non vuol dire che non lo so comunque ragazzi allora qua ho scelto come vedete qua ci sono a specchio lì come potete notare ci sono delle dittate si questo è stato già pulito questo qua adesso lo devo pulire con quello del vetro qua ho usato un prodotto qua ne uso un altro allora qua abbiamo vedete tra l'altro anche me ciao 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 comunque abbiamo scelto qui in specchio questo è un elemento da 75 quindi anta 50 anta 25 questa qua non la trovavo mai questa malefica e questa anche se c'era non era disponibile per la spedizione comunque dettagli poi per quanto riguarda le altre ante ho scelto questo modello qua bianche bianco assoluto non quella che vira il giallino ed è molto bella perché ha questa specie di baseri ma non è quella che tipo allora quella da quattro per intenderci chi conosce gli armadi di ikea pax sa che quella che ha tutti i cosini vira un po al al panna quindi non è un bianco puro questo è bianco puro non mi ricordo il nome se vi interessa poi ve lo scriverò nei commenti e nulla direte e le altre due ante allora vi rispondo subito le altre due ante allora ero indecisa se fare tutto specchio qui tipo specchio specchio un'altra alta specchio e qua se fare tutto bianco quindi qui voglio un vostro consiglio allora aspettate che mi metto così così vedete meglio l'insieme anzi aspettate che così si vede decisamente meglio allora qua fare tutto bianco ho fatto il grand'angolo ragazzi quindi un po' sì l'inquadratura è giusta forse rispecchia più la verità questo che che le altre inquadrature perché sono più zoomate comunque qui fare tutto bianco e qua fare tutto specchio oppure specchio e bianco oppure mettere due ante bianche e lasciare solo quello specchio o altre due no altri due specchi o no quindi l'opzione uno è specchio lì opzione due specchio qua bianca lì opzione tre bianca bianca però io no direi di comprare un altro specchio e direi di comprare un'altra a specchio e e così è bello la sopra assolutamente quelle scatole le metto via le tolgo devo comprarne altre che si addicono di più sono belle sono di un rosa pallido l'avevo già viste e devo andare a prendere penso che andremo domani a prenderle e nulla quindi questo è quanto ah lì non vedete la maniglia perché lì le ho ordinate su amazon e ho preso quella diamante quindi sbizzarritevi nei commenti che appunto voglio sapere il vostro parere io ho già in mente più o meno cosa fare o faccio tutto specchio e qua tutto bianco oppure qui specchio e qua bianca in tal caso comunque sono da prendere una bianca e una specchio in ogni caso e sì perché non penso di mettere le altre bianche un'altra specchio mi piace molto e è nulla poi appunto e tra l'altro questo qua va a richiamare il nostro comò ve lo faccio vedere vedete ho voluto vedete ho voluto tenere come questo qua è sonjesand mi pare che si chiami ho voluto mantenere questa linea vedete fatta in questo modo esattamente uguale a quella dell'armadio guardate che bellezza ma la bellezza dell'albero dell'olimpione vabbè ragazzi io adoro adoro e vedete le altre lo scelte proprio come il cassetto così tutto a posto e niente fatemi sapere il consiglio appunto se continuare se continuare la storia è tutto specchio qua bianco oppure fare qui specchio e la bianca per spezzare un po' per dare una cosa un po' alternativa che non è una cosa vista rivista e nulla questo è quanto io spero che vi sia piaciuto io sono contenta è tutta un'altra storia con le ante e adoro adoro tanto bene ragazzi io vi saluto vi mando un mega bacione mi raccomando datemi i vostri consigli e ci vediamo alla prossima ciao